buonasera a tutti ragazzi e bentornati al canale b world 2.3 parleremo del 14esimo episodio di dinoquist 2 e lo so il 13esimo non è andato tanto bene si ho sbloccato lo scheletro dello scelidosauro ma non è andato tanto bene perché il resto dell'audio è stato muto per tutto il tempo e mi dispiace per questo ora vediamo cercherò di controllare da solo capito prima che metto in onda il video insomma vediamo che cosa possiamo fare qua non lo so ad apparecchio che non ci giochiamo potremmo sbloccare qualcosa di nuovo un nuovo fossile non lo so comunque vi auguro una buona visione eccoci qua sul ok va bene eccoci qui nel 14esimo episodio di dinoquist da parecchio che non usciva un episodio quello che ho da dirvi è questo l'episodio recente il 13esimo sbloccando lo scheletro dello scelidosauro che non posso posizionarlo da nessuna parte per via dello spazio è anche successo che non ho potuto insomma si si è sentito zitto l'audio per tutto il tempo e scusatemi farò attenzione quando cerco di registrare e andiamo e abbiamo sblocato una nuova stanza del museo scusa come faccio ad accedere ah ok si ecco come faccio ad accedere si ok lato a lato b bene molto bene molto bene abbiamo sbloccato una nuova stanza il titolo c'è mancano le ossa del mososauro e del paletosauro è qua sotto no non voglio arrendermi altre ossa del mososauro molto bene molto bene dobbiamo aspettare parecchi minuti eh qui è tutto pronto qui è tutto pronto perfetto perfetto l'ambra è importante ci dovrebbero essere due ossa da qualche parte aspettare aspettare no scaviamo ancora bello fare l'archeologo A presto. A presto. A presto. Ho trovato l'ambra ma niente fossili. Questo è incredibile. Mascavo angoro. E guarda dov'era. E anche questo parecchio piccolo. Ovvio che non lo trovavo. Vediamo che troviamo. Meno ci guadagno qualche moneta. L'ambra non è quasi pronta. L'ambra non lo trovavo. Questo è completo. Questo no purtroppo. Il Baryonyx è completo. E avete visto quante cose mancano. vediamo l'ambra che ci dà. c'è l'ambra. Ah no. Ah no. questo è il lato A. Questo è il lato A. C'è anche il lato B. qui. Aspettate che faccio la raccolta. molto bene. avete visto l'ambra. l'altra Ambra. vediamo. qualcosa ora finalmente. ora andiamo a vedere nella sezione DNA. aggiornamento del Mosasauro. è già. ma ne manca uno. molto bene. molto bene. abbiamo qualcosa. però ancora siamo distanti. 1056 per essere completo eh. il Polacanthus. e l'altro studio di ricerca qual è? l'ultimo. perfetto. abbiamo completato il Baryonyx. vediamo la mappa. ancora non abbiamo altre terre da esplorare. ma esploriamo queste qua. sarà un doppione. almeno ci guadagno le monete. voglio scavare ancora. non ci guadagno le monete. non ci guadagno. sai che non c'è niente più da scavare qui. non ci guadagno le monete. guarda. ah ho capito. la skin ok. li rivesto tutti ottimo lavoro si è sempre lui del Polacanthos ma ci vogliono tre minuti e anche per l'Optena Rodondo dai esploro altre zone da qui c'è l'Ambra raga attenzione l'Optena Rodondo facile si ma l'Ambra come faccio a trovarla eccola quella è semplice basta che si vede che luci che l'abbiamo trovata mamma mia che grande appena in tempo ma io voglio scavare ancora qua ce n'è uno fa anche queste sono ossa dell'Optena Rodondo andiamo al laboratorio vediamo che c'è aggiornamento su cosa asì l'Optena Rodondo nooo dai sì dai DNA nemmeno non mi ci fa arrivare asì l'Optena Rodondo non mi ci fa arrivare no mi ci fa arrivare l'Optena Rodondo è ma è è no mi ci fa non mi ci fa ma ma Grazie a tutti. Ce ne sono due pietre. Con l'ambra si può tutto, ragazzi. Grazie. Di nuovo. Grazie. Grazie. Ah, il T-Rex. Ma non era questo. Vabbè che ci sarà l'altro. Aspetiamo il tempo. Apriamo tutte le scatole. Ma sono soddisfatto per aver sbloccato la nuova stanza del museo. Grazie a tutti. 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 Ottimo lavoro. Eh, piccole ossa. Ma ci sono riuscito almeno. L'ambra. Questa la devo trovare per forza. c'è la missione anche. molto bene. Molto bene. facile sarà lì. Potrei tentare. ecco. Eccolo dove era. l'ambra. 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 Oh sì Eh bisogna aspettare altri minuti Acceleriamo il tempo Vediamo cosa c'è nell'ambra Perfetto No dai 38 Comunque L'abbiamo quasi completato Eh scusatemi la pubblicità qua Oh no Completato perfetto Almeno completiamoci qua Ricompensa Altro Ricompense quotidiane In omaggio completate Adesso completiamoci qua Ovvio Perché ormai è completo Perché ormai è completo L'archeoteri L'archeoteri Dai completiamo tutti Nel frattempo Nel frattempo guardiamo qua La mappa Perché non ha tre stelle Se lo ho completato Se lo ho completato Non lo ho capito Non l'ho capito Perché Perché bu ma comunque fatto stare che l'abbiamo completato grazie a tutti la base della roccia però è solo a due stelle mi domando per quale motivo e vabbè lascio perdere importante che ho completato i dinosauri comunque la soddisfazione a meno è questa che abbia sbloccato questa nuova stanza del museo bene ragazzi spero tanto che questo video vende di Dinoquist 2 il 14esimo episodio sblocchiamo una nuova stanza del museo vedremo se potrò lavorarci con un titolo più adatto comunque spero tanto che questo video di Dinoquist 2 vi sia piaciuto iscrivetevi al canale mi raccomando e se vi è piaciuto il video di mettere un bel like e noi ci sentiamo alla prossima ciao